Ciao ragazze, oggi vi portiamo con noi a fare un po' di shopping, come sempre siamo io, mia madre e il mio ragazzo. Oggi non è giorno di saldi, perché in realtà i saldi iniziano domani, ma girando qualche negozio oggi siamo accorti che già scontano, non hanno il prezzo sul cartellino, ma praticamente tutti i negozi in cui siamo andati ci hanno detto che in cassa passava il prezzo saldato, scusate il mal di mare. Già abbiamo fatto acquisti da Terranova e da Zuiki e ora siamo diretti a Castel Romano, sperando che non ci sia troppo traffico per arrivare. Nel frattempo ci stiamo guardando il concerto dei Moda sulla radio, sulla radio, sul serio. Tra le ombre, mentre penso a te, vuoto rosso, luce e londine. Prima di una mamma. Tra le foglie, su fiamme, un punto di amore, nel frattempo più l'estate nasce. Eccoci qua, a guardare le nuove, a guardare le nuove, a guardare le nuove, a guardare il testo di un magneto. Siamo arrivati a Castel Romano e ora andiamo a fare un giro. Grazie a tutti. Siamo appena usciti dal centro commerciale. Io come al solito ho comprato qualcosa di make up, però se devo dire, quasi tutti i negozi avevano ormai iniziati saldi, ma veramente saldi un po' inutili, perché c'erano davvero poche cose vecchie, brutte, hanno ritirato fuori cose tipo del 2000 secondo me. E tra l'altro cose che avevamo visto recentemente in alcuni negozi sono ovviamente sparire. Queste sono le cose che a me fanno veramente incazzare. E quindi ora torniamo a casa e domani che iniziano realmente i saldi andremo in qualche centro commerciale anche perché qui a Roma si gela. Spero che questo video vi sia piaciuto. Non so, forse continuerò anche domani questo vlog, così insomma sarà un vlog super saldoso. Ciao! Saludate! Ciao!